Quella lì probabilmente avevano sofferto un po' il nome Inter, la storia dell'Inter, il colore, il club e sono entrati un po' frenati, hanno fatto delle scelte nella partita d'andata che nel secondo tempo, in questa partita qui invece, si erano liberati di queste ipotetiche difficoltà che loro pensavano e diventava la partita pericolosa. Diventava poi il problema di prenderla un po' sotto gamba mentre era una squadra più forte e allo stesso tempo una squadra più libera mentalmente come dicevamo ieri in conferenza. Abbiamo messo subito su un binario corretto, poi gli abbiamo concesso un po' di campo, non siamo stati così pignoli da andare a discutere su tutti i palloni, però abbiamo sempre compattato la linea difensiva con i due mediani e non gli abbiamo mai concesso niente. Avrei tolto anche Perisic, avrei tolto anche Nainggolan perché poi è difficile recuperare soprattutto in un momento dove qualche infortunio ce l'hai, qualche situazione che non è al meglio ce l'hai. Domani a livello fisico e di conseguenza domani è forse il giorno dove si può fare qualcosa, il giorno dove si accusa più stanchi di sapere di tutti e domani l'altro. E sei già alla vigilia della successiva partita per cui è il cliente di quelli scomodi perché è una squadra veloce, una squadra che sta attraversando un buon momento. Quello che metterebbe a posto tutto è avere tutti i 20 calciatori a disposizione. Quello metterebbe sicuramente dentro le scelte un aiuto importante, però poi probabilmente anche gli altri debbono sopperire a qualche cosa che capita a questo periodo del campionato. Probabilmente contro il Rapid ha contato anche un po' di esperienza, non ne abbiamo tantissima in queste competizioni europee, però se si va a confrontarci con loro più giusto, più corretto per caratteristiche sarebbe Keita Perché poi è una prima punta un po' più di movimento, una prima punta che svuota e che poi ti riattacca lo spazio lì dentro. Lo può fare Politano, lo può fare Perisic e lo fanno più di manovra naturalmente, con meno presenza dentro l'area di rigore. Ed è una cosa che non è detto che poi crei dei limiti in base a quello visto.